salve a tutti in questo video vi spiegherò una checklist da usare per non sbagliare i vostri video intendo prima di fare il video reale dovete fare una serie di test per verificare se tutto funziona perché tutti gli altri video che ho spiegato insegnano come fare delle cose che preparano la funzionalità del video completo che farete alla fine ma prima di dire ok adesso registro dovete aver fatto dei piccoli test questi piccoli test sono importantissimi e tra l'altro servono per non sbagliare il vostro video allora li vediamo in ordine il primo è controllare il volume del microfono e del desktop per esempio io il video che ho fatto precedentemente mi sembrava perfetto e solo che nel piccolo test che avevo fatto ho abbassato l'audio del desktop e nel video finale che avrei messo su youtube non ci sarebbe stato l'audio del desktop con la musichetta quindi adesso io vi sto spiegando una cosa che ho sbagliato anch'io per fare questo video però sono arrivato a fare l'upload del video corretto poi anche l'audio e microfono perché le volte capita che lo mettete punto e registrate che non mi ci sente ok l'altra cosa è controllare i vari cambi scena che funzionino ed è giusto che li controlliate tutti e se avete short cut controllare che funzionino anche quelle altrimenti è un bel casino altra cosa da controllare è un piccolo test di qualche minuto per l'audio effettivamente se i cambi vengono realmente come avete pensato e se avete un ospite da un'altra parte internet che si collega a testare che anche l'ospite funzioni e poi fate il video reale ok con questa piccola checklist e dovreste riuscire a fare dei video giusti perché immagino un bel video di un'ora sbagliato perché avete il microfono spento quindi mi sentivano le altre persone ma obs non ha registrato niente perché era spento il microfono e come lo recuperate quel video lì non si recupera niente e buttatevi a tutto avete fatto una figura da squagliotti quindi per questo video è tutto tutto